C'è grande soddisfazione per un risultato che è sicuramente al di sopra delle aspettative, tutti parlavano di un testa a testa, anche in funzione del risultato dietro a turno, però noi siamo molto contenti perché a turno ci siamo arrivati davanti a tutti da soli, contro i tre schieramenti tradizionali, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle. Abbiamo visto come i grandi poli quando si uniscono riescono a fare paura a tutti, noi da soli, in molesta civica, senza snaturarci, rimanendo noi stessi, siamo riusciti a dimostrare che si può fare politica in questo modo, siamo riusciti a cominciare i parmigiani e questa è una soddisfazione enorme.